Buona giornata, riprendo il video precedente perché avevo cominciato a parlare di quota 100 ma poi sono finito a parlare della rottamazione delle cartelle esattoriali che chiede Salvini. Ma parliamo di quota 100. Il capo della Lega dice che milioni di lavoratori perderanno 5 anni di vita e torna a parlare di quel termine fastidiosissimo, le barricate. Se non si vorrà prorogare questa misura. Ma il PD risponde ma sono solo slogan, sono solo parole al vento. Quindi Salvini non parla solo di sicurezza, come dicevamo prima parla di rottamazione delle cartelle esattoriali che secondo me, come vi dicevo, è solo una mossa elettorale ma favorisce l'evasione fiscale. Perché a chi gli perdoni di non aver pagato, credi che adesso si comincerà a pagare. Dirà benissimo, fantastico, adesso non pago proprio più niente, tanto prima o poi ci sarà qualcuno che mi perdona. Ma Salvini poi parla di quota 100 e dice Non è possibile che la notte di Capodanno milioni di lavoratori e lavoratrici perderanno 5 anni di vita, commenta durante un comizio elettorale ad Assisi. Il riferimento è alla fine del triennio sperimentale della cosiddetta quota 100, quella norma che porta le persone in pensione anche senza il requisito anagrafico, purché la somma dell'età e degli anni contribuiti versati raggiunga quota 100. E così il leader della Lega, Acchianciano Terme, parla ancora di queste cavolo di barricate. Saranno metaforiche, ma realmente non abbiamo mai visto nulla di questo, metaforico o no, parlando. Beh, Acchianciano Terme siamo nel collegio elettorale dove Enrico Letta si presenta alle supplettive e dice se il PD vuole cancellare quota 100 per tornare alla legge Fornero, dice Salvini, la Lega farà le barricate, piuttosto togliamo il reddito di cittadinanza ai furbetti. Ma caro Salvini, non è il PD che vuole cancellare quota 100, è Draghi. Draghi fa quello che vuole, non ascolta il PD. Il PD può dire qualsiasi cosa, come la Lega, Draghi ragiona con la sua testa e non ha in minima considerazione questi partiti. Al 31 dicembre scadrà il tempo per la presentazione della domanda per chi vuole andare in pensione con quota 100, avvertono gli esperti del sistema previdenziale. Questo tipo di pensione potrà essere accettata dall'Inps anche nel 2022, basta che la domanda sia fatta entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi si fa la domanda entro quest'anno e poi le procedure possono andare avanti anche l'anno seguente. Ma per il leader della Lega è impensabile ritornare alla legge Fornero, che non deve essere reintrodotta, c'è già, è solo lì sospesa perché c'era questa quota 100. Salvini dice che è al lavoro con imprenditori e sindacati, per offrire anche nel 2022 e nel 2023 la possibilità dopo tanti anni di lavoro di godersi un po' di vita, di famiglia. E oggi, grazie a quota 100, si può scegliere di andare in pensione dopo 38 anni di lavoro e 62 anni di età. Pensare nell'anno del dopo-covid di portare da 62 a 67 l'età minima per andare in pensione è assurdo. Però, anche se tu, Salvini, parli con imprenditori e sindacati e ti metti d'accordo con loro, Alla fine, guarda che è Draghi che decide. Se Draghi pensa sia una misura interessante, la prorogherà sicuramente. Non gliene frega niente che l'ha fatta Salvini, che il PD è contro. Non è una questione... Draghi non è che la mette su muri ideologici che ci sono tra i partiti. Draghi solo valuterà se è una cosa economicamente sostenibile, se è una cosa che funziona o no, e la prorogherà. Poi, se funziona, magari ne parliamo nel prossimo video. Secondo i dati forniti dall'Inps, in totale i lavoratori che hanno avuto accesso alla pensione sono 341.000 su 433.000 domande pervenute. Ce ne sono 56.836 che sono state respinte perché i requisiti in realtà non c'erano. Ma al di là dei numeri, però, l'annuncio delle barricate da parte della Lega ha ricompattato il fronte della maggioranza di governo. Draghi non ha tutto questo entusiasmo su questa quota 100. L'espressione barricate, più del concetto espresso da Salvini, urta gli alleati di governo. Anche i grillini hanno archiviato l'idea di prolungare la misura che avevano votato con la Lega durante il Conte 1. Franco, che è il ministro dell'economia, riconosce che la questione è delicata. Dice, sono fiducioso che l'esecutivo troverà una soluzione equilibrata nelle prossime leggi di bilancio. Il PD dice, Salvini dovrebbe pesare le parole. Dice Vincenzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il capo di un partito può fare le barricate fuori dai ministeri, dove ci sono anche i suoi ministri. Sono espressioni da campagna elettorale che prendo per quello che sono. Cioè, io consiglierei nel mio piccolo Assalvini, lascia perdere quel termine barricate, è nauseante, fastidioso, metaforico e preannuncia chissà che cosa che poi non avviene. Già in passato parlavi di barricate sul Green Pass. Qualche leghista dice, ma sono metaforiche, cosa dici? Metaforiche o no? Ma queste barricate metaforiche si traducono in che cosa? Dove? Come? Quando? Quindi sono solo parole al vento? Sì. In questo caso, in queste ultime settimane, è incredibile che Matteo Salvini si sta facendo prendere in giro da tutta la sinistra, dalla Morani, dai ministri, dal PD, dall'ETA. Poi vai a vedere le dichiarazioni del PD e dici, eh beh, ma dicono le stesse cose che dico io. Cioè, a Salvini, cioè, prendere ormai e contrastare Salvini è diventato facilissimo. Perché dice cose, dice sì, no, forse, parla di barricate, di cose che poi non fa. Pertanto, per la sinistra ormai è facilissimo contrastare Salvini, no? Come qua, che vi dico, il PD dice, ma è solo campagna elettorale, bisogna prendere queste espressioni per quello che sono. E hanno ragione. Cioè, guardate che dare ragione al PD e alla sinistra significa che Salvini veramente ha passato ogni ogni limite, ogni limite. Vedremo. Cosa succederà anche oggi con il Green Pass? Salvini dice, non indietreggeremo, ma lui è già d'accordo con Draghi per il sì. Quindi, fate un po' voi, se l'elettorato leghista si merita di essere preso in giro così. Grazie a tutti e arrivederci.